Siamo con Faraoni, Davide finalmente ritrovi il campo, che sensazione è, come stai innanzitutto? Buonasera a tutti, finalmente dopo cinque mesi, tanti sacrifici e tanti allenamenti sono riuscito a toccare il campo con i ragazzi. Stanno abbastanza bene, ancora un po' di fastidi ma quelli me li porto avanti perché alla fine incrociato è sempre un intervento delicato e i dolori, i fastidi dopo la partita, quelli ci stanno. Io sono contentissimo, anche se per la prima partita l'ho fatto con la primavera, però entrare sempre in campo dopo cinque mesi è sempre emozionante. C'è stato anche un gol tra l'altro, ovviamente non fa mai male. No, sì, è stato anche il gol, anche se alla fine ha fatto tutto il portiere, però alla fine ci stavo. No, niente, è stata una bella emozione. Adesso vi state allenando anche senza nazionali, con un nuovo mister, come ti poni? Adesso sei praticamente a breve, sarai completamente a disposizione, come la vedi questa nuova avventura? Come la vedo? La vedo tranquillo, sereno e cerco di dare il massimo più che altro per far capire che all'allenatore sono rientrato e ci sto. Ci sei? Anche perché è inutile nasconderlo, su quella fascia siamo corti con l'assenza di Widmer, proporrai anche lì la tua candidatura? Assolutamente, io devo perché è giusto che mi metta in difficoltà il mister per quel ruolo. Io, come ho già detto, mi metto a disposizione e spero di rientrare in forma il prima possibile. E sul momento della squadra? C'è stato ovviamente il cambio di guida tecnica e sempre vuol dire che qualcosa è andato male. Tu che l'hai vissuta da fuori, come ti spieghi questo calo? Comunque è stato drastico nelle ultime partite. No, io sinceramente ho una spiegazione assoluta, non ce l'ho perché sennò l'avrei cercato di farlo capire un po' a tutti. Però penso che a fine, quando finisce un ciclo, inizia un altro, è normale che ci sono periodi un po' così. Dispiace che il mister sia andato via, però penso che la società ha deciso di dare anche un segnale alla squadra, un po' a tutti, che è ora di cambiare e di dare un'accelerata a questa classifica. Hai già parlato con il mister? No, abbiamo fatto un discorso appena arrivato in espogliatoi e devo dire che è stato un ottimo discorso. L'ultimissima considerazione sulla tua scorsa stagione, purtroppo interrotta dall'infortunio, ma era una stagione eccezionale, comunque con il Novara ti sei distinto. Quanto ti ha fatto crescere questa avventura fino purtroppo all'infortunio? No, ha fatto crescere molto. All'inizio, siccome era tanto che non giocavo terzino, ho trovato un po' di difficoltà nei tempi, nei movimenti, nelle distanze. Nel momento in cui ho capito bene come funzionava dietro, mi sono divertito e è andata veramente bene. Ho fatto tutte le partite finché purtroppo non mi sono rotto, ma ormai è passata.